Leggete la nostra sezione di test per scoprire quali sono i prodotti collegati in rete più adatti alla vostra situazione abitativa personale. Eseguiamo i nostri test in base a criteri rigorosi e in situazioni quotidiane realistiche. Ricerchiamo anche i risultati di test rilevanti dei rinomati portali di test e li riassumiamo. I nostri tester sono redattori esperti di tecnologia con un debole per le case intelligenti e i prodotti connessi. Di più, di meno, il nostro formato di test, esperienza e criteri. Dal 2016, sul nostro portale pubblichiamo articoli di confronto e test ben studiati per aiutare i nostri lettori a decidere quali prodotti acquistare. Siamo riconosciuti come esperti nei settori delle case intelligenti, degli assistenti vocali, dell'elettromobilità e della generazione di energia rinnovabile e dello stoccaggio domestico. Abbiamo sviluppato formati di test collaudati e approfondiamo regolarmente la nostra esperienza per fornire valutazioni e risultati di test serie affidabili. Redazione di Omeamp.e virgola smart, cosa testiamo? Proprio come la tecnologia stessa, la gamma di prodotti è in continua evoluzione. Quando siamo stati fondati, l'attenzione era ancora concentrata su Amazon Echo e Alexa, che hanno accelerato notevolmente la diffusione della casa intelligente in Germania. Oggi quasi tutti i dispositivi elettronici possono essere collegati in rete e quindi anche la nostra copertura si è notevolmente ampiata. La nostra selezione di prodotti di prova spazia dalle prese di corrente Wi-Fi agli aspirapolvere robot, fino alle centrali elettriche. Da balcone che consentono agli utenti di generare la propria elettricità a casa. Ecco alcuni esempi delle categorie più importanti in cui mettiamo regolarmente alla prova i prodotti. In che modo abbiamo testato i componenti per la casa intelligente Echo? Nei nostri test garantiamo di essere esperti in questa categoria di prodotti e di aver già confrontato diversi dispositivi. Inoltre, teniamo conto dell'attuale stato dell'arte e sappiamo quali criteri sono rilevanti per i dispositivi in prova. Non ci limitiamo a sottoporre i dispositivi a un breve test, ma cerchiamo anche di simulare le esperienze quotidiane. A seconda della categoria di prodotto, eseguiamo anche test a lungo termine. Questo è importante per prodotti come i riscaldatori per balconi, ad esempio, in modo che sia chiaro quanto sia buono il rendimento. Solare in diverse condizioni atmosferiche. Per prodotti come gli aspirapolvere robot, oltre agli ostacoli quotidiani come la rimozione dello sporco convenzionale, è importante. Anche affrontare gli estremi che giocano un ruolo in un test di durata. Nell'area di prova, verifichiamo come gli apparecchi si comportano con la sabbia per uccelli, il terriccio e il ketchup essiccato, ad esempio. In generale, è importante la facilità d'uso dell'apparecchio, la facilità di comprensione delle istruzioni e la capacità del prodotto. Di svolgere concretamente i compiti per i quali vuole posizionarsi sul mercato. Confrontiamo le promesse funzionali teoriche con le condizioni di prova reali e verifichiamo l'idoneità all'uso quotidiano. Oltre alla nostra esperienza e ai risultati dei test, per noi è importante anche una visione a 360 gradi per garantire una valutazione obiettiva. Per questo motivo, nei nostri test sui prodotti includiamo, se disponibili, ulteriori test o valutazioni di altri team editoriali specializzati. Calcolo del punteggio del test La redazione di Omeamp.e virgola smart lavora in modo indipendente e obiettivo. I marchi di prova non sono pertanto in vendita o negoziabili.